Siamo molto motivati, Sono pieno di energia, sono molto felice di essere qui in Athens, con i miei amici, il coach, il club, credo che è un grande honore per me di giocare con questo tipo di club, quindi voglio iniziare e avere divertimento con il mio squadre. E un messaggio per i fanci? Ho spero di metterli molto veloce e spero di fare molti ruoti nel gym, ma sono sicuro, perché ogni volta che vedo la televisione, la volta che spiego contro l'Olimpiakos, è stata un'atmosfera fantastica. Sono un tipo di atleta che piace questo tipo di persone, sono molto passioni. Io vengo da Italia, quindi credo siamo simili su questo tipo, quindi spero di dare loro il miglior lavoro per giocare e le migliori ricordi di questa season. Grazie a tutti. Grazie a tutti.